Musica Covid Calabria da lunedì in zona arancione, RT sopra 1. Tre regioni Calabria, Emilia Romagna e Lombardia hanno un RT puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre 6, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, lo superano nel valore medio e altre 4 lo raggiungono Puglia o lo sfiorano, Lazio, Piemonte e Veneto. Il dato emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale ISS Ministero Salute, pertanto il Ministero della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Calabria di regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Sono le regioni classificate a rischio alto e dove potrebbero essere applicate misure più restrittive. La scorsa settimana non ce n'era nemmeno una. Complessivamente si legge nel report che questo porta alla classificazione di 12 regioni a rischio alto questa settimana, 8 a rischio moderato e solo una regione a rischio basso. Vaccinazione anti-covid in Calabria. Accordo giunta a Longo. Estesa la platea dei destinatari. La vaccinazione anti-covid in questa prima fase, oltre che agli operatori sanitari dei presidi pubblici e privati e agli ospiti dell'RSA, sarà estesa anche agli operatori delle case per anziane e quelli del 118 e dei servizi di emergenza urgenza, al restante personale delle strutture ospedaliere e specialisti ambulatoriali, ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e assistenti medici in formazione, specializzanti, tirocinanti, farmacisti di comunità e assistenti, informatori scientifici, volontari a supporto di attività sanitarie, operatori di studi medici veterinari e odontoiatrici, operatori di laboratori privati accreditati. E' questo l'esito dell'incontro avvenuto nella cittadella regionale Iole Santelli, al quale hanno preso parte il presidente facendo funzioni della regione Calabria Nino Spirlì, gli assessori Gianluca Gallo, Fausto Orso Marso e Francesco Talarico e il commissario ad acta della sanità Guido Longo. Quest'ultimo ha accolto le richieste arrivate dai componenti dell'aggiunta regionale in merito alla necessità di allargare la platea dei destinatari in questa prima fase di vaccinazione. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Covid si amplia il focolaio nella RSA di Monterosso Calabro. Si allarga il focolaio da Covid-19 nella residenza sanitaria per anziani Villa delle Rose di Monterosso Calabro. Ai già noti 26 positivi di ieri, confermati dal tampone molecolare effettuato dall'azienda sanitaria provinciale di Vivo Valencia, se ne sono aggiunti altri 12, anche questi positivi, dopo il risponso del molecolare. E così il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto quota 38, 10 dipendenti e 28 ospiti della struttura. Il sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Lampasi, ha disposto già da ieri la zona rossa con divieto di entrate e di uscita del paese. Per Teleionio, Lorena Pallotta. Impennata di casi Covid a Borgia, il sindaco ordina zona rossa fino al 15 gennaio. Cresce la preoccupazione a Borgia per la diffusione del virus Covid e il sindaco decide di adottare misure restrittive. 30 casi positivi accertati a Borgia. In una diretta Facebook, il sindaco Elisabeth Sacco fa il punto della situazione e illustra le nuove misure. Ciò che più ci preoccupa è il numero di contatti che i nostri concittadini hanno avuto in questi giorni. Abbiamo mandato l'elenco all'ASP delle persone da sottoporre a tampone. Abbiamo richiesto oltre 85 tamponi. Qualora qualcuno di questi contatti risultasse positivo, la situazione potrebbe degenerare. Non possiamo consentire che questo accada. C'erano delle regole, ma queste non sono bastate. Da qui la decisione di una nuova ordinanza. Un'ordinanza da vera e propria zona rossa. Per Teleionio, Lorena Pallotta. Santa Caterina dello Ionio, Maria Antonietta De Francesco, insegnante e dirigente del PD, contesta la decisione sulla chiusura delle scuole del presidente Spirli, lasciando aperta la scuola dell'infanzia. In merito all'ordinanza ultima del presidente facente funzione Spirli, sulla chiusura delle scuole, prende posizione l'insegnante e dirigente del PD di Santa Caterina, Maria Antonietta De Francesco. Volevo esprimere il mio parere, precisa l'insegnante, e non è mia intenzione assolutamente fare politica in questo contesto, ma vorrei capire solamente i criteri utilizzati per chiudere la scuola primaria e secondaria di primo grado, lasciando aperta però la scuola dell'infanzia e non l'asilo, come detto dal presidente. Anche i nomi dati alle cose determinano significati e valori che si attribuiscono agli stessi. L'asilo, volevo ricordare al nostro presidente, non è né un luogo sicuro, né un luogo con spazi ampi, come ha detto nel suo video. Evidentemente non ha mai messo piede in una scuola dell'infanzia calabrese. Parla di bambini gestibili, ergo, presumo che non abbia figli in età prescolare per capire cosa voglio dire gestire bambini dai due anni e mezzo ai sei, in spazi tutt'altro che ampi, con materiali comuni che sono fonte di scambio tra bambini e non c'è sanificazione che tenga quando giocano. De Francesco evidenzia anche gli aspetti dell'autocontrollo. I bambini in età prescolare non hanno l'autocontrollo giusto per stare fermi al loro posto. La loro natura li porta a muoversi e scambiare le loro cose e soprattutto a non mantenere la distanza tanto agognata. Non hanno le mascherine e noi docenti, spesso, per farci capire, dobbiamo abbassare la nostra protezione. Non possiamo inoltre non toccarli perché non sono autonomi e volevo ricordare al signor Spirli che proprio l'infanzia, che non è scuola dell'obbligo, doveva essere la più tutelata. Invece, come al solito, viene scambiata per parcheggio, con parcheggiatori, le maestre, mandate allo sbaraglio. Infine, la dinamica insegnante lancia un appello al Presidente. Presidente, prenda contezza prima di parlare, venga a fare un giro tra i nostri ampi spazi, venga a fare un giro in una stanza di pochi metri quadri, dove venti bambini corrono, saltano, giocano e soprattutto si toccano. Chiedo solo questo, prima di parlare si deve esaminare la realtà. E su ciò che non si sa bisogna tacere, diceva un grande filosofo, o quantomeno affidarsi a chi ne sa di più. Arrivederci, signor Presidente, forse quando andava lei all'asilo c'erano insegnanti capaci di farla stare fermo al suo posto e spazi più ampi dove giocare in serenità. Un pacco regalo spedito con Corriere da Badolato con destinazione Roma, consegna entro 24-48 ore, viene consegnato dopo sette giorni. Il racconto dei nonni, impossibilitati a trascorrere le festività con i nipotini. La Calabria, che detiene tutti i record negativi, da oggi ne registra un altro, nei ritardi nella consegna dei pacchi spediti con Corriere. La disavventura di un pacco regalo spedito con Corriere Bartolini da Badolato lunedì 28 dicembre mattina con destinazione Roma, viene consegnato dopo sette giorni. L'episodio del pacco fantasma ci è stato raccontato da due nonni di Badolato, che impossibilitati a trascorrere le festività di Natale con i nipotini a causa del Covid-19, si sono preoccupati, dopo l'assicurazione dell'autista del Corriere, che il pacco sarebbe stato consegnato entro 24 ore, massimo 48, di spedirlo con dentro giocattoli e dolciumi dalla sede di ritiro di Badolato Marina. Dalle indagini fatte, ci precisa nonno Francesco, il pacco, ritirato mattina di lunedì 28 dicembre, è arrivato nel deposito di Fiano Romano, Roma, mercoledì 30, per cui la consegna era prevista per la mattinata di giovedì 31. Per verificare se la consegna era stata effettuata, ho telefonato dalle ore 10 fino alle ore 12.30 e una voce registrata mi comunicava di rimanere in linea per parlare con un operatore. Dopo tre ore di attesa ho rinunciato. L'ho ritentato nel pomeriggio e la solita voce riferiva che gli uffici rimanevano aperti da lunedì a venerdì, e qui finiva la comunicazione. Mi mettevo in contatto con mio figlio, che mi comunicava che il pacco non era stato consegnato. Pertanto, per non deludere i bambini, lo pregavo di comprare regali e dolciumi da consegnare la sera di San Silvestro, dicendo che il pacco dei nonni era arrivato e che un altro pacco con i dolciumi da buttare sarebbe arrivato per l'epifania. Il nonno ci racconta anche che sabato 2 gennaio ha cercato di mettersi in contatto con la ditta Bartolini, con sede a Marcellinara, ma anche qui gli uffici risultavano chiusi. Mi chiedo, e lo chiedo al signor Bartolini, di verificare quanto è accaduto e se ci sono delle responsabilità per la mancata consegna. Giovedì mattina, perché il pacco non è stato consegnato? Non si poteva fare uno sforzo e consegnarlo almeno sabato? Altre volte ho inviato pacchi con un camion trasporti, pacchi consegnati il giorno dopo in mattinata. Con il Corriere invece ci sono voluti 7 giorni. Dopo l'accaduto, mi aspetto almeno una telefonata di scuse. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Anno giudiziario del distretto di Catanzaro, inaugurazione nell'aula bunker alla Mezia il 30 gennaio. L'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Catanzaro si terrà il 30 gennaio alle 10.30 nella nuova aula bunker di La Mezia Terme. Un luogo ampio e capace di contenere le distanze di sicurezza imposte dal Covid è stato scelto quest'anno per il resoconto dell'anno 2020, e per dare inizio ai lavori dell'anno giudiziario 2021. L'aula bunker misura 3.300 metri quadri, è lunga 103 metri e larga 34 e vi si accede attraverso tre ingressi separati. La struttura presenta oltre 600 posti che per l'occasione saranno a disposizione dei magistrati, degli avvocati e delle forze dell'ordine del distretto, oltre ad uno spazio per il pubblico. Ogni impostazione è stata concepita per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, realizzata dopo un anno di richieste da parte del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e del presidente della Corte d'Appello Domenico Introcaso. In vista del maxiprocesso, rinascita Scott, istruito dalla DDA di Catanzaro contro le cosche vibonesi, che prenderà il via il prossimo 13 gennaio. Il 15 dicembre scorso è stato teatro di un sopralluogo da parte del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per Teleglionio, Maria Caterina Sanso. Cinque associazioni di Chiaravalle Centrale con una tombolata online all'insegna del dono. Martedì 5 gennaio 2021 si è svolta una bellissima iniziativa che ha visto impegnati tanti bambini e giovani di ogni età. Cinque associazioni di Chiaravalle Centrale sono scese in campo insieme e in una sinergia di idee e con l'entusiasmo che da sempre le contraddistingue, hanno dato origine ad un evento ludico dal titolo, quando la solidarietà dà i numeri. Una tombolata all'insegna del dono. Sulle note del tempo, presiedute dalla dottoressa Emanuela Neri o il DM presiedute dal dottor Giovanni Sestito, Avis Comunale di Chiaravalle Centrale rappresentata dalla vicepresidente Caterina Musci con la collaborazione e partecipazione della consulta Giovani e di Avis Provinciale Catanzaro rappresentata dal presidente Franco Parrottino, il paese dei balocchi di Caterina Maiolo, Maneggio Sirio della dottoressa Ludovica Stagliano, queste le associazioni che si sono coordinate e hanno messo in palio i premi per permettere a molti di trascorrere due ore di serenità in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Una tombolata a distanza che si è svolta su una piattaforma online ha permesso a diversi bambini di poter giocare insieme e ha fatto felici anche i grandi. Tempo trascorso tra risate, allegria e soddisfazioni per la vittoria. Questo ha permesso di dimenticare per un attimo la distanza che separava i numerosi partecipanti. Le associazioni ci sono, continuano a lavorare nonostante tutto. Per stare vicini basta volerlo. Per Teleionio, Anna Maria Collabrano. Pier Antonio Cagliò, nuovo presidente AIAC provincia di Catanzaro. Pier Antonio Cagliò è il nuovo presidente AIAC della provincia di Catanzaro. L'allenatore catanzarese, espressione della lista che si poneva in continuità con l'operato dell'uscente Raffaele Pilato, ha infatti prevalso di poco sull'altro candidato, il lamettino fortunato Roberto Palmieri, fermatosi al 47% del nuovo progetto autonomo Fare per Cambiare. Questo l'esito delle operazioni di voto svoltesi ieri, lunedì 4 gennaio, nei seggi regionali di La Mezzia Terme e Santa Caterina sullo Ionio. Nonostante la sconfitta per ciò che concerne la carica di presidente provinciale degli allenatori di calcio, Fare per Cambiare esprime comunque la propria soddisfazione in virtù della significativa affermazione in termini di propri consiglieri e delegati eletti. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Medico si toglie la vita a Cosenza. Era il responsabile vaccinazioni del personale ospedaliero. Si è tolto la vita il dottor Lucio Marrocco, responsabile della vaccinazione anti-Covid-19 sul personale ospedaliero a Cosenza. Il medico si sarebbe ucciso lanciandosi dal balcone della casa in cui viveva con la famiglia. Marrocco, sposato con un altro medico, aveva 56 anni ed era direttore dell'unità operativa complessa Prevenzione e protezione ambientale dell'azienda ospedaliere di Cosenza che nei giorni scorsi aveva organizzato le fasi della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 negli ospedali di Cosenza e Rogliano. Spaccio di droga. La polizia arresta un barman a Corigliano Rossano. La polizia di Stato ha arrestato a Corigliano Rossano un giovane di 26 anni, FNA, barman, con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è stato eseguito dal personale del commissario di Corigliano Rossano che aveva notato strani movimenti da parte del barman durante l'attività lavorativa. I poliziotti avevano rilevato inoltre come gli avventori si trattenessero pochi minuti all'interno del locale senza acquistare nulla. Il barman è stato così sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di numerosi involucri di gelofan contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa poi al locale dove stanno stati trovati altri involucri contenenti marihuana, materiale per il confezionamento delle dosi ed una cospicua somma di denaro di cui il barman non ha saputo giustificare la provenienza. Il giovane, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato posto agli arresti domiciliari. Per Teleionio, Lorena Pallotta. Detenevano droga e armi, madre e due figli arrestati ad Amantea. I carabinieri di Amantea hanno arrestato una 41enne del posto già agli arresti domiciliari e i suoi due figli conviventi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di un'arma clandestina. Uno dei tanti controlli svolti dai militari nei confronti delle persone sottoposte a misura cautelare hanno fatto scoprire sul balcone della casa dei tre sei involucri contenenti complessivamente 250 grammi di cocaina e 80 grammi di sostanza da taglio. Inoltre, all'interno di una gabbietta per animali domestici era stata nascosta una pistola semi-automatica marca Beretta calibro 6,35 con matricola a brasa. Infine, in un mobile di una delle camere da letto della casa, i carabinieri hanno trovato 2.830 euro in contanti. Gli accertamenti condotti dal laboratorio analisi sulle sostanze stupefacenti hanno permesso di verificare che del quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrata avrebbero potuto essere ricavate 798 dosi. Il valore dello stupefacente si aggirerebbe intorno ai 40.000 euro. Madre e figli sono stati portati in carcere. Per Tele Ionio, Maria Caterina Sanzo. Controlli Polizia Catanzaro un arresto e 5 denunce per diversi reati. Personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro ha arrestato PCI di 21 anni in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in sostituzione di quella degli arresti domiciliari che lo stesso stava scontando per il reato di rapina aggravata in concorso commesso l'8 dicembre essendo stato denunciato per il reato di evasione a seguito di un controllo effettuato nella notte tra il 4 e il 5 gennaio allorché non era stato trovato in casa. Nella giornata dello stesso 4 gennaio sono 5 le persone denunciate all'autorità giudiziaria della sezione volanti per reati vari. B.A. di 61 anni per il reato di sottrazione e denneggiamento di cose sottoposte a sequestro in quanto non veniva rivenuto un veicolo che era stato confiscato ed affidato alla sua custodia. C.A. di 58 anni per il reato di atti osceni in luogo pubblico in quanto compiva atti di autoerotismo in pieno giorno nel parcheggio del centro commerciale Le Fontane. P.C.D. di 25 anni per il reato di evasione poiché sottoposto alla misura cartelare degli arresti domiciliari non veniva trovato nella propria abitazione. Due donne S.A. di 36 anni e M.R. di 58 anni per il reato di inosservanza al provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Catanzaro poiché trovate nel comune di Catanzaro nel quale non avrebbero potuto fare ritorno per la durata di tre anni. Sono state inoltre segnalate alla prefettura di Catanzaro in quanto assuntori di sostanze stupefacenti due persone trovate in possesso rispettivamente di marijuana e di eroina in modica quantità. Falsità in atto pubblico e reati elettorali al reggio confermati domiciliari per consigliere comunale. Resta ai domiciliari il consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Castorina del Partito Democratico arrestato il 14 dicembre scorso per plurime fattispecie di falso e reati elettorali. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri dell'Aggiunto Gerardo Dominiani e dei PM Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo. E' stata rigettata quindi la richiesta di revoca del provvedimento restrittivo presentata dai difensori di Castorina Francesco Calabrese e Natale Polimeni nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Il consigliere comunale nell'occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha affermato di non aver mai commesso reati e che se qualcosa è successo è avvenuto a sua insaputa. Il riferimento è al duplicato delle tessere elettorali utilizzate alle elezioni comunali di Reggio Calabria del 20 e 21 settembre per far votare centinaia di anziani che in realtà non sono mai andati al seggio. Non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza ma non è escluso che a pesare sulla decisione del Tribunale del Riesame sia stato non solo l'impianto accusatorio che aveva portato all'arresto del consigliere comunale ma anche il verbale depositato da IPM contenente le dichiarazioni dell'altro indagato Carmelo Giustra presidente di seggio in occasione delle elezioni comunali che ha ammesso i reati contestati ed accusato Castorina di aver organizzato i presunti illeciti Fratello imprenditrice scomparsa all'imbadi su nuove rivelazioni una pugnalata al cuore Avere appreso da un pentito che mia sorella sarebbe andata incontro ad una sorte così agghiacciante è una pugnalata al cuore lo ha detto Vincenzo Kindamo fratello di Maria Kindamo l'imprenditrice 44enne di Laureana di Borrello scomparsa la mattina del 6 maggio del 2016 in località Montalto di Limbadi secondo il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente ex boss del clan dei Basilischi che ha appreso la circostanza da un altro pentito Emanuele Mancuso la donna sarebbe stata uccisa macinata da un trattore o data in passo ai maiali e le motivazioni dell'omicidio consisterebbero nel diniego da parte del fratello della vittima imprenditrice scomparsa a vendere un suo terreno a Salvatore Ascone già indagato per concorso nell'omicidio di Maria Kindamo se solo penso al volto di Maria così solare e sorridente macinato da un trattore ha aggiunto Vincenzo Kindamo mi manca l'aria e mi si gere il sangue mia madre ieri ha avuto una reazione molto forte l'interessamento a quel terreno potrebbe anche esserci stato ma che questo possa rappresentare l'unico movente dell'omicidio mi sembra improbabile tutta quella recrudescenza ci ha sconvolto queste cose non si verificano dopo una semplice richiesta di vendita di un terreno senza avvertimenti importanti dovevano esserci campanelli di allarme che dubitano non ci siano stati è sicuro il fratello della vittima non è che Maria mi riferisse ogni particolare ma se avesse ricevuto intimidazioni ne sarebbe rimasta scossa e turbata benché l'attività dei collaboratori sia rilevante nelle strategie investigative a volte le deposizioni non sono proprio lineari e adamantine certo in molte cose il riscontro si trova ma vanno esaminate a fondo noi stiamo ancora cercando un epilogo alla storia di Maria e con l'eventuale morte dobbiamo ancora fare i conti la notizia secondo cui sarebbe stata sbranata dai maiali ci ha distrutto grazie a tutti